perché la prevenzione rappresenta un elemento fondamentale per poter sconfiggere il tumore della mammella. La prevenzione si fa a qualsiasi fascia di età, lo screening in realtà è una terminologia tecnica che implica che in sostanza le donne tra i 50 e i 69 anni possono gratuitamente effettuare una mammografia, che è il nostro esame cardine, l'esame principale, ma chiaramente la prevenzione non inizia solo a 50 anni perché l'accesso deve essere possibile alle donne di qualsiasi fascia di età, perché purtroppo il tumore della mammella è la patologia più frequente nelle nostre donne.